Ciao a tutti ragazzi sono CelloFizzis e questo oggi siamo qui con Jacopo Ciao a tutti E tanta altra gente sul mio nuovo server Posso dire una cosa? Sì Allora sto per iniziare una serie sulla PS3 insieme a mia sorella Ah sì? Davvero su cosa? Su Minecraft che ho appena comprato Bello! E boh niente fine Non vedo l'ora di vederlo Hai visto questa è la spada della Gagagaga? Fa uiii bellissimo Ma allora un attimo Ma ti dobbiamo soltanto una E come si fa? Facciamo lo spacchettamento? Allora adesso facciamo lo spacchettamento epico ragazzi Scregno antico K Sì giusto allora Andiamo al negozio? Dove è il negozio? Vai Non è giusto Adesso è soltanto di PvP In futuro ci saranno pure le fazioni Ma per ora c'è il PvP Questo è il negozio Guarda che bello eh Iscrivetevi al canale Certo Iscrivi Allora questo è il negozio Seguimi Sì sì E qua ci sono i bauli La stanza dove possiamo aprire le varie chest Allora prendiamo Questa chiave qui che è Baule e risorse Devi usare la chiave per aprire Ecco Prendiamo quello del baule di risorse E apriamo Che rumore Intanto in chat scrivono i miei collaboratori Ho vinto 5 di ferro Che schifo Vediamo Io ho vinto 6 di oro Vai Io ho vinto davvero pochissime cose Ecco adesso ho vinto un po' d'oro Con queste cose qua Poi potremmo comprarci delle armature Ho vinto altre 3 diamanti Lui sta vincendo tantissimi diamanti No non c'è più Come non c'è più Perché ho fatto così Ma adesso c'è io What a fuck Vabbè Ora apro lo screen antico Yeah DJ e benvene Giandrea è benvenuto al server Qualcuno è appena arrivato di nuovo Jetting an upgrade Bravo eh Bottle di incantagione Vai Sì 3 mele d'oro Bravo Digendrea ha lasciato il gioco Oddio Ah logicamente riserverò SP Quindi potete entrare tutti Vai al 3 mele d'oro Apriamo il forziere incantato Vai Lo screen è incantato Sììì Che hai vinto Knockback Bravo Potrai incantarlo Su qualcosa Io ho vinto delle frecce avvelenate Vediamo un po' Madora Altre frecce avvelenate Adesso il forziere più potente Quello del tesoro Vai Qui ci sono le robe più epiche Incredibili Se non ci capita un'arma Non ci credo Che hai vinto Di tartaruga Vabbè Io ho quella di cactus Vai Però non abbiamo una spada per combattere Io ho appena trovato successo Vabbè Abbiamo tanti minerali Possiamo comprarla Vieni Anche se io potrei Givarmela Comunque Uuu Mi compro altre cose Va bene Se vuoi compri Quella è quella più schifosa Ciao Ciao Nonno C'è Allora Vediamo un po' Io compro Dove le sei Le armi sono Quello giallo Questo qui Il giallo Armi vai Si può prendere una spada di pietra Felice Ok Mi prendo questa Poi vediamo un po' Se riesco a prendere qualcos'altro Come hai fatto Prendere la spada di pietra Ci ho messo l'oro Via Allora L'armatura d'oro Quella questa qui La possiamo proprio prenderla Allora Allora prendo questo Mi faccio i gambali No Questo non sei E' lezzo E' lezzo Questo gioco Ma figurati Bisogna soltanto Verdarci un bel po' Ok Non c'è l'arco Vai Ora che abbiamo L'armatura bella Questo è 16 Si eh Ora che è fortissimo L'arco è forte Adesso possiamo mettere le cose Ma perché tu ce la devi avere Perché si Possiamo mettere le cose Nell'ender Cioè qui ho tante varie cose Ok Dov'è renderci Per ora Laggiù In fondo Lontano No Non la puoi usare con la spada E infatti la metto qui dentro Non abbiamo preso il cibo Giusto Compriamo del cibo Poi l'olio e ferro Dimmi Dimmi nonno Vediamo un po' Un breaking Fire protection Vai E Sharpness Perfetto Ora che siamo incantati Possiamo cominciare a lottare No No Che vuoi fare E poi devo bussare la mia Si si Eccoci all'arena Allora guarda Prima di picchiarci Ti faccio vedere in cosa consiste l'arena Tu vai in giro Uccidervi Oltre a quello E in giro trovi questi Qui Aspetta I generatori Ecco i generatori Danno tantissimo ferro In questo caso E come Come fai Come fai di tornare A casa Spawn Ferro Poi ci sono i diamanti Gli smeraldi No Noi due non ci si Ora si Ti sto venendo addosso No dai Certo Ma fatti lì do le cose Facciamo tpa Eh Via C'è anche il combat log Logicamente Scen Scen Io l'armatura del cactus Ma come Vittoria Ma perché Ti ridò le cose Posso fare slash pvp Fai tpa Tpa Non posso Non devi fare Vabbè Devi fare tpa Perché tu c'hai più armatura Ho perso No Sai come il tpa L'hai sempre fatto il tpa Tpa E io faccio Tutti in maio Boh Ce l'ho io Ce l'ho io Attacchiamoli insieme Vai Sta scappando Ma è il gioco Non è giusto No le mele Sono finito Dammi un po' Non te lo volevo dare Via Ma non è giusto Davvero un po' Noi però siamo in due comunque No non puoi dare allo spoon Cioè il combat log è ancora attivo Andiamo a prendere i diamanti che sono qui sopra Dammi un po' di mele Te lo date Ah dove? Ma te lo date ben 20 Dove? All'entrata Eccole eccole Arriva Facciamogli una trappola Tu vai a destra e io a sinistra Mi scappo Guarda che dice il generatore di diamanti Eh l'ho preso L'ho preso Ok Il combattolo che è finito? Ok si dura 10 secondi Andiamo alla barca Ma cosa c'è scusa? Niente Lì sopra c'è Ah si è vero C'è la zona enchanting Quella più forte Di livello avanzato Via Vabbè io allora vado sulla nave Tu? Si Chi c'è? No Nino Ma si possono fare Ma si affrontano fra di loro Guarda Lui c'ha le cose di ferro Ah è vero Fa più male l'ascia della spada Si Stai Hai scusato Forse è stata una buona idea Ah Ma come hai fatto? Mi hai scattato con un colpo Perché magari fai schifo Però io posso fare back Ma non è Ma perché tu giri dalle cose? Veramente lo possono fare tutti back Eh? Le cose me le ridò Ma perché non posso? Puoi farlo anche te back? Vieni 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 da me Ho posato le mele Vai andiamo insieme Te vedo io Io voglio farlo Attacchiamo tutti insieme Non lo c'è Cioè quello di diamante No perché? Guarda scappa C'è la fisica Di te Ok Andiamo alla nave Lì ci sono gli smeraldi Vediamo un po' Sì ce ne saranno bel po' Quest'ora Guarda che bella La zona di là No però le voglio io Eh ci andiamo insieme E ce li dividiamo Guarda si va di qui Dal portale magico Del potere incredibile Inevitabile Certo Poi da lì ci si deve buttare di sotto Per tornare a terra Non ci si può nessuno? No Ma che cavolo c'era su? Poi più abbiamo addosso Guarda Ora ci si va Mi do un po' di cibo Ok funziona Pensavo non funzionasse Tu entra Yeah Ciao Vai Aspettami Ti aspetto Vado normalmente Aspetta Ecco questa è la nave Lui ci si picchia con forza Ma soprattutto ci sono i smeraldi Qua dietro Dove? Lì Nella Insomma Eccoli Smeraldi Tre Cinque Tre a te Allora picchiamoci Battaglia No Non ci credo Ho shotato male Però gli dammi le cose Sì sì Vai Sì tieni Vieni Tieni Basta che non mi uccidi eh Sì sì Andiamo giù Ma picchia Aspetta Sì sì Aspetto Smeraldi Ma se campuriamo qua? Aspettiamo gli altri Che arrivo Non credo che arrivino Non sanno che esistono qui Meglio Che esiste questo posto Dovranno scoprire Vediamo un po' dove sono Ma se cadiamo di sotto? Non ci si va niente Per fortuna Ti faccio un critico Della matosca No ma non ti pico Dove saranno finiti? E ne ho 4 milioni No io ne ho una Ti possono spaccare Questi fruticciurros? No Non possiamo spaccarli Ok comunque Allora sono spariti Direi di andare Alla mob arena Adesso insieme No Slash warp Mob Arena Aspetta Arena Sì Dai Ah comunque Uffa Dammi Eh Sì Se mi picchi Vai vai Poi il futuro Aggiungerò grandi segreti Al server No aspetta La mia spada Ah scusa ce l'ho io Per Comprare Le cose Ora c'ho 38 C'ho 6 smeragli Ma si possono buttare No no vieni Ma questa qua è mia Cerca nessuno È mia No tu la vi lascia Allora tieni Te la butto qui Dove? Davanti al negozio Che io entro nel negozio Extra Ok ragazzi Direi che per oggi è tutto Ci vediamo nel prossimo video Di Cielo PvP Quindi per oggi è tutto Ciao 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 Grazie a tutti.